In questo video ti svelerò l'unico segreto della comunicazione persuasiva e del copywriting che funziona sempre. Lascia che ti spieghi qual è questo segreto e come utilizzarlo al meglio per rendere i tuoi titoli irresistibili e poi se imparerai come utilizzarlo nella maniera più corretta ti sarà molto utile anche per stendere articoli, quindi non solo nel titolo ma anche all'interno dell'articolo stesso. Il segreto che ti sto per svelare è legato al principio di scarsità. Che cos'è il principio di scarsità? Il principio di scarsità afferma che quando c'è una scarsità di una risorsa, questa risorsa automaticamente viene vista come importante, come preziosa e quindi ci viene voglia di accaparrarcela, scusa se mi sono impappinato. Se c'è poco oro, l'oro diventa prezioso, se ci fosse tanto oro quanto ferro l'oro sarebbe meno prezioso e questo viene utilizzato nelle televendite, quando ti dicono solo fino ad oggi, solo fino a domani, solo fino al 31 di dicembre, sai che quell'offerta scadrà e quindi ti viene voglia di acquistare quel prodotto che magari non acquisteresti se tu sapessi che puoi acquistarlo in qualsiasi momento. Ma il segreto che ti sto per svelare va oltre il principio di scarsità perché ti permetterà di rendere irresistibile il tuo prodotto o il tuo annuncio o qualsiasi cosa tu desideri è semplicemente grazie a una parola. Qual è la parola? La parola l'ho utilizzata più volte sia mentre stavo parlando sia all'interno del titolo. La parola è proprio unico. Lascia che ti spieghi che cosa intendo. Devi sapere che ogni volta che qualcosa, se il principio di scarsità ci dice che se una cosa è limitata, una risorsa è limitata, improvvisamente diventa preziosa, immagina se quella risorsa è talmente limitata da essere unica. Se io ti dicessi che hai l'unica possibilità di poter avere questo mouse a 50 euro anziché a 80 euro, sicuramente la tua voglia di poter avere questo mouse aumenterà tantissimo. Pensiamo anche alle edizioni limitate. Quindi si fa un'edizione limitata, cioè si crea un prodotto e se ne crea una versione che viene stampata in un numero veramente esiguo di copie e quindi ci viene voglia di averlo. Se addirittura invece quel prodotto è unico, cioè è l'unica in circolazione questo mouse, nessun altro mouse, il mouse che sto toccando e che tu non vedi, se tu sai di poter avere l'unico mouse fatto da me con queste caratteristiche che tutti gli altri mouse della stessa marca, dello stesso produttore non hanno le stesse caratteristiche, ti viene assolutamente voglia di averlo. Perché non è una cosa preziosa, è una cosa addirittura indispensabile, poiché è unica. E allora come poter applicare questo schema? Basta inserire la parola unico all'interno di un titolo. Quando hai letto il video che si intitola L'unico segreto che funziona sempre, sicuramente avrai avuto più voglia di leggerlo rispetto a un video che ti dice un segreto, uno dei tanti segreti che funziona sempre. Perché questo è l'unico segreto e quindi il fatto che è unico lo rende prezioso, lo rende improvvisamente funzionale. Quando ci viene detto che quello è l'unico segreto, allora se l'unico segreto funziona sempre, probabilmente sarà qualcosa di davvero speciale, quindi non è più scarso, diventa speciale. E soprattutto l'unico richiama anche qualcosa di misterioso, l'unico segreto che funziona sempre. Quindi magari è qualcosa di nascosto, che nessuno sa, o è qualcosa di talmente potente da bastare lui da solo a rendere persuasivo un annuncio. Quindi utilizza la parola unico. Ogni volta che vuoi attirare nel tuo video, nel tuo articolo o nel tuo annuncio un possibile cliente, compratore o semplicemente una persona che vuoi invitare a vedere il tuo video, a leggere il tuo articolo, utilizza la parola unico, perché ha un potere infinito. Oppure utilizza altre parole che creano scarsità, ma la creino in modo intelligente. Che cosa voglio dire? Allora, prova a pensare questo. Oggi ti svelo tre segreti che ti possono aiutare a migliorare la tua vita. Ok, bello, interessante. Ma se invece ti svelo i tre segreti che ti possono aiutare a migliorare la tua vita, ho detto quasi la stessa cosa, ma l'impatto emotivo è molto diverso. Perché l'impatto emotivo è molto diverso? L'impatto emotivo è molto diverso perché se io ti svelo tre segreti tra tanti, va bene, sono importanti, li voglio sapere, ma vuol dire che ci sono anche tanti altri modi per fare la stessa cosa. Ma se invece ti svelo gli unici tre segreti, e qua torna la parola unico, l'unicità, allora i segreti sono veramente preziosi, perché non c'è un altro modo di fare quella cosa. Quindi puoi utilizzare la parola unico oppure unirla a un numero. Gli unici tre segreti, gli unici, l'uniche tre tecniche, gli unici sette approcci, gli unici otto passi, cioè non devi dare alternativa al tuo cliente. Quello che tu gli proponi è l'unico modo o uno degli unici modi che però solo tu conosci per poter ottenere quello che vuoi ottenere. Quindi il segreto che ti svelo oggi è questo, utilizza la parola unico o la parola unici e vedrai che improvvisamente quello che proponi diventerà talmente prezioso da essere speciale e tutti vorranno averlo e vorranno leggere o vorranno ascoltare quello che tu gli dirai perché vorranno imparare questo unico segreto che solo tu conosci oppure conoscono anche altri ma che tu li stai tramandando come unica possibilità per ottenere quello che vogliono. Metti pollice in su se ti è piaciuto questo video, metti pollice in giù se non ti è piaciuto questo video, commenta se hai domande da farmi, condividi il tuo video per poter svelare questo segreto a più persone possibili, iscriviti nel mio canale per raggiungere presto quota mille e nota che questo video è in bianco e nero e sono sicuro che colpirà l'attenzione di molti proprio perché in bianco e nero e proprio perché in bianco e nero è unico.